ora ciascun singolo si forma in grado eminente soltanto per la condizione che ha scelto dalla giovinezza in poi egli viene per sua scelta e per circostanze accidentali esclusivamente indirizzato verso una forma di vita e viene tenuta in conto della migliore quell'educazione che prepara il ragazzo per la sua futura vocazione nella maniera più conforme allo scopo rimane posto in disparte tutto ciò che non sta nella più stretta relazione con quella o ciò che lui non può come si usa dire essere utilizzato il giovinetto destinato a diventare un dotto impiega tutto il suo tempo ad imparare le lingue le scienze e proprio con preferenza quelle che sono necessarie per guadagnarsi il pane in avvenire quindi con minuziosa esclusione di quelle che richiede la formazione del dotto in generale tutte le altre forme di vita e attività gli sono estranee come esse sono estranee l'una all'altra il medico ha rivolto tutta la sua attenzione alla sola medicina il giurista alla legislazione del suo paese il mercante a quel determinato ramo del suo commercio il fabbricante ha la sola produzione del suo manufatto nel suo campo e gli sa quanto è necessario ed anzi con maggior chiarezza e fondatezza questo gli è quindi particolarmente caro e lo considera come sua proprietà acquisita in esso vive come nella sua casa paterna e tutto questo è bene ciascuno fa in ciò il proprio dovere e il tenore contrario non solo sopprimerebbe tutti i vantaggi della società ma sarebbe dannoso anche al singolo come al tutto ma da ciò sorge in tutti necessariamente una certa incompiutezza e unilateralità che se non proprio necessariamente almeno però abitualmente si trasforma in pedanteria la pedanteria che ordinariamente viene confusa con la sola classe erudita forse perché essa vi è più visibile forse perché vi si dimostra maggiore intolleranza domina in tutte le classi sociali e il suo principio fondamentale è dappertutto lo stesso cioè il seguente di tenere in conto di comune educazione umana l'educazione appropriata al proprio stato particolare e fare ogni sforzo per realizzarla così l'erudito pedante stima solo la scienza e deprime ogni altro valore le sue lezioni e conversazioni in società di gente mista procedono allo scopo di comunicare ai suoi uditori una particella della sua dottrina e farli bramosi della precisione di pensiero che egli possiede il mercante pedantesco sprezza per contro l'erudito e proclama non vi è che computo e denaro il denaro è la soluzione del problema della vita ragionevole e felice il guerriero sprezza l'uno e l'altro stima soltanto forza fisica e agilità coraggio bellico e difesa dell'onore come egli la intende e non gli rincrescerebbe arruolare tutti quelli che sanno battere il tempo di marcia i teologi in modo eminente poiché la loro classe ha ottenuto fra tutte il maggior influsso o per amor del cielo o per timore dell'inferno si affaticano da quando hanno esistenza ad educare in tutti gli uomini fin giù ai ragazzi del villaggio dei teologi ben fondati e dei dogmatici di polso mirate avanti tutto al regno di dio il resto è cosa meschina dicono i teologi e sappiamo bene quello che intendono per il regno di dio così domina dappertutto una grande unilateralità ora utile ed ora dannosa così ciascun individuo non è soltanto un dotto ma teologo o giurista o medico non è soltanto uno spirito religioso ma cattolico o luterano ebreo o maomettano non è soltanto un uomo ma politico mercante guerriero e così dappertutto con la più alta possibile educazione di classe si impedisce la più alta possibile evoluzione dell'umanità il sommo fine dell'esistenza umana anzi essa deve restare impedita perché ciascuno è gravato dall'ineliminabile dovere di educarsi quanto più perfettamente può per la sua particolare occupazione e questo è quasi impossibile se non si affronta il rischio dell'unilateralità